buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di un argomento di cui ho sentito parlare per vicende comunque non troppo belle molto ultimamente e quindi come da titolo parleremo di cloud e cerchiamo di capire cos'è questo cloud e come si può sistemare questa situazione perché ultimamente ho visto che ci sono stati vari problemi appunto con alcuni di questi servizi cloud e dobbiamo cercare di capire come e perché e soprattutto se effettivamente è una scelta saggia utilizzare un cloud per conservare i nostri dati ebbene quindi prima di iniziare il nostro discorso pippone eccetera eccetera ecco dobbiamo cercare di capire un attimino una cosa cos'è un cloud? un cloud fondamentalmente è un server ma comunque è un hard disk ok? un hard disk avete presente un hard disk? una memoria, un hard disk remoto e che quindi si trova da un'altra parte del mondo sul quale noi possiamo conservare tutti i nostri dati ne esistono tanti, tantissimi ora non ne parlerò in particolare di non farò nomi, marche eccetera ma ne esistono veramente tanti il punto è un altro il punto è che diciamo che ultimamente ci sono stati ecco dei problemini dei problemini con il cloud in questo caso di google il quale sembra che abbia praticamente perso dei dati ok? se li si è persi così in strada va strada facendo no? come la canzone di Claudio Baglioni ora qualcuno si chiede ma com'è possibile che un cloud perda dei dati? in realtà non è una cosa così remota perché se ci pensiamo bene un cloud è un hard disk ok? fondamentalmente detto in soldoni un hard disk si può danneggiare può avere dei problemi eccetera eccetera per giunta è un hard disk, un cloud quindi è una cosa remota quindi noi non ce l'abbiamo neanche in casa da poter controllare fisicamente che cosa è successo che cosa non è successo quindi hanno ancora peggio la situazione però resta il fatto che tuttora molta gente usa iCloud iCloud non iCloud ok? nel mio caso io uso iCloud come cloud principale ok? ma semplicemente perché ho un iPhone o un Mac si interfacciano bene tra di loro condivido i file tutte le foto sono salvate tra l'altro ci sono c'è un'impostazione per criptare i propri dati i propri file eccetera in modo che siano visibili solo a noi e neanche ad Apple stessa quindi comunque diciamo che è un passo un po' più avanti tra l'altro giusto per dire l'ultima i cloud di Apple quindi diciamo quindi diciamo il posto fisico il data center il posto fisico dove vengono e alloggiati fisicamente tutti i nostri dati di Apple funziona ha energia solare ha energia alternativa e quindi praticamente neanche inquina ma questo non da ora ma da parecchi anni perché a differenza di molte aziende Apple queste cose le ha fatte già da tantissimi anni quando ancora non si parlava non c'era diciamo la moda dell'inquinamento che c'è oggi no? ha iniziato parecchio tempo prima e chiaramente è arrivata parecchio tempo prima di conseguenza beh c'è da dire onore al merito e c'è da dire che è bello vedere qualcuno che le cose le fa in silenzio le fa veramente e le fa perché le vuole fare e non semplicemente perché c'è una moda perché ultimamente è inutile negarcelo c'è questa moda praticamente dell'ambientalismo eccetera eccetera ad ogni modo chiuso il mio discorso personale su iCloud sul servizio di clouding che io uso personalmente andiamo a vedere cosa è successo due eventi in particolare uno è di qualche anno fa ma sta tornando alla ribalta e l'ho sentito praticamente più e più volte in più video ovvero un povero tizio che aveva un android quindi le fotografie vanno sincronizzate automaticamente con il cloud di google e fa una foto al suo figlio piccolo neonato praticamente perché c'aveva un'irritazione per mandarla al pediatra per capire più o meno cosa sia che al giorno d'oggi voglio dire è chiaro che si fa anche così peccato che praticamente questo account gli viene bloccato praticamente ha avuto grosse difficoltà ad avere di nuovo l'accesso al suo account inoltre c'è stato anche il problema che è stato indagato dalla polizia proprio per questo motivo in realtà questo non ha commesso nessun reato quindi forse semplicemente bastava anche da parte della polizia stessa chiedere e lui avrebbe detto sì ho mandato la foto al pediatra punto comunque cosa voglio dire con questo che i dati sul cloud e di su qualsiasi cloud è difficile che siano privati ok che siano veramente non monitorati privati che se ne freghino di quello che mettiamo in realtà ci sono dei cloud indipendenti che principalmente sono in Svizzera che sono privacy oriented quindi in poche parole orientamento alla privacy e quindi diciamo i tuoi dati restano privati restano solo tuoi nessuno deve o può andarli a vedere eccetera eccetera e bla 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 però voglio dire non ho una fonte ufficiale che mi dice questa cosa quindi diciamo che teoricamente dovrebbe essere così su alcuni servizi ma che comunque sono voci di corridoio e quindi io non posso ne confermare ne smentire niente quello però su cui voglio portarvi a riflettere oggi è una cosa il concetto di privacy il concetto di privacy che tante persone definiscono molto importante nella loro vita non c'è cosa più importante della privacy no? si vede gente ad esempio che quando usa il telefono se lo nasconde come se stessero nascondendo uno scrigno prezioso con qualcosa dentro di chissà che tipo no? quindi una cosa anche esagerata peccato che poi per dire le stesse persone non dico per forza con i cloud di google ma con vari servizi che si trovano in giro ok? peccato che le stesse persone poi affidino tutti i loro dati a computer a computer ad hard disk a data center di grandi aziende e quindi a terze persone quindi se io ho l'elenco delle mie password ad esempio lo carico su qualsiasi drive ok? quindi io sto dando quel file a qualcuno fondamentalmente quindi non faccio vedere alla persona che c'è accanto a me cosa sto facendo perché lo aprivo e poi vado a caricare dati sensibili ok? che poi diventano praticamente alla portata di una terza azienda diciamo che non è molto logica questa cosa c'è qualcosa di malato dobbiamo capire che negli ultimi anni stiamo arrivando a dei punti stratosferici nella nostra società e quindi si rischia di giungere a dei paradossi particolari come questo cioè io non devo far vedere nulla di me però poi carico tutti i miei dati su un data center su un cloud così X che fondamentalmente non so cosa ci fanno con questi dati ovviamente questi cloud sono online ok? quindi non è che sono offline perché altrimenti non li potrei visualizzare quindi devono essere online il problema però che sono online che oltre che rompersi che perdere dati come comunque è successo eccetera eccetera in varie occasioni a tante persone la cosa più grave diciamo è che possono essere aggerati ok? ed è così possono essere aggerati nonostante tutti i dispositivi di protezione che ci sono dietro giorgiamo quindi alla conclusione di tutto questo pippone che vi ho fatto qual è la soluzione migliore per conservare i vostri dati ad oggi 2023 beh se volete affidarvi a un cloud affidatevi a un cloud sicuro vi dico dopodiché se volete essere ancora più sicuri usate un metodo di criptazione quindi criptate i dati cosa che volendo si può fare direttamente con iCloud con Apple perché è già implementato o anche con software di terze parti tipo criptomater ad esempio che è tra l'altro anche open source quindi è gratuito poi magari un giorno ve lo faccio vedere oppure è anche uno può fare entrambe le cose quando ci sono documenti importanti potete proteggere il singolo documento con una password io ad esempio ho un file con le password giusto per fare un esempio lo carico sul drive di iCloud magari un file di Excel ad esempio e posso proteggere il foglio con una password quindi ogni volta che io devo accedere a quel foglio ci vuole una password così avrò una doppia protezione ovviamente questo non annulla completamente il rischio ma lo fa diminuire parecchio quasi a zero diciamo così ce lo azzera quasi ma una cosa fondamentale a prescindere da tutto questo che ho detto che è giusto e bla 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 e salvare i file importanti come faccio io ma in realtà come fa tanta altra gente oltre me in locale quindi compra di un bel hard disk ok un bel hard disk grosso da 2 da 4 tera non un ssd perché le ssd nonostante siano più veloci sono più costose e durano meno nel tempo io dico proprio un bel hard disk fisico di quelli vecchio stampo io ne ho 2 3 praticamente belli grossi di dimensioni e backupate tutti i vostri file importanti lì poi prendete questo hard disk ve lo mettete nel cassetto possibilmente in un posto non umido o non esposto al sole perché se no è chiaro che si danneggia ok soprattutto nel corso del tempo ve lo mettete lì ogni talk 2 mesi 3 mesi 6 mesi le ho collegate al pc e sincronizzate e andate a trasferire tutti i dati importanti nuovi io ci ho tutto organizzato in cartelle ho 3 hard disk praticamente finora di cui il terzo ancora non è pieno però considerate che uso il computer da anni e anni e anni e ho sempre fatto così e una volta gli hard disk erano molto più piccoli invece ora li troviamo anche da 4 8 tera in rare occasioni però voglio dire ci entrano molti più dati e vi levate tutti i problemi questa è la soluzione migliore paghi una volta e l'hard disk ce l'hai sempre ti conservi i tuoi dati sono offline quindi nessuno ci può accedere perché sono offline sono su un disco fisico che hai tu non sono da qualche parte nel mondo ed è il metodo sicuramente più sicuro e volendo anche più economico perché poi i cloud se non vogliamo tanto spazio costano e se poi non paghiamo più non abbiamo più quello spazio quindi dobbiamo svuotarli perché se no altrimenti c'è un problema quindi per tanti tanti e tanti motivi è meglio ancora utilizzare i vecchi metodi e si è dimostrato nell'ultimo periodo con tante perdite di dati che ci sono state con il cloud di google ok quindi utilizzare i vecchi metodi che funzionano funzionano bene l'unica cosa che vi dico se voi decidete di fare questa operazione che vi sto consigliando io ricordatevi che l'hard disk di backup non deve essere utilizzato peraltro deve essere dedicato al backup punto perché se io voglio utilizzare un hard disk come backup e poi lo collego al computer ci carico scarico dati quindi faccio operazioni di lettura e scrittura lo lascio perennemente collegato a un computer che è collegato a sua volta internet e via dicendo beh allora non ha nessun senso deve essere diciamo una cassaforte una protezione un hard disk appunto un disco dove ci sono i nostri dati sono lì noi usciamo per metterci nuovi dati basta oppure per ripescare vecchi dati qualora dovessero servirci o dovessimo farci qualcosa appunto sono esclusivamente per questo ebbene quindi detto ciò mi sembra che oggi si sia fatto abbastanza tardi e spero di avervi un po' illuminato perché ripeto se tu utilizzi un cloud non voglio specificare quale io ripeto io uso i cloud ok papo 3 euro al mese per avere 200 giga di spazio per tanti altri motivi che non sono questi che ho citato ma per tanti altri motivi per i servizi apple per il relay privato per la criptografia per diciamo avere un ambiente unito tra tutti i miei dispositivi apple per tantissimi altri motivi che non sono questi ok però per il resto backup il locale su hard disk hard disk tutta la vita iscrivetevi mettete il mi piace la campanellina il commento quello che volete condividete anche il video eccetera eccetera e noi ci vediamo la prossima settimana al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.